Alla piletta puoi vedere il martintescatore, l'airone, il falco, il tettirosso e sentire le allodole e gli usignoli. Campi tutti intorno, un frutteto, montagne sullo sfondo, corsi d'acqua, fiori spontanei, farfalle e api. I promotori e fondatori del progetto La Piletta vogliono condividere questo luogo con la gente e incontrare e accogliere con la trotera professionalità soprattutto coloro che sono in difficoltà. Il gruppo dei fondatori, i volontari e le famiglie della Pineta Onlus, intendono creare spazi per persone con disabilità da condividere mediante l'arte, il lavoro e la socializzazione, con lo scopo di far emergere le abilità che ciascuno ha. C'è una vecchia corte con grandi edifici che attendono solo di essere sistemati e di ritrendere vita. Una casetta già ristrutturata è la nostra base di tartenza. Si è in mezzo ai campi ma c'è la calma e l'ambiente giusto che aiuta ad ascoltare e a parlare con chi è vicino, giovani e meno giovani, per dare risposta alle necessità speciali di ognuno. Volontari, con tante esperienze e contetenza, famiglie e amici stanno dando una mano perché il progetto della Piletta possa crescere. Alla Piletta si cerca non solo di valorizzare le bellezze della natura e di ogni singola persona ma anche di creare cose belle attraverso attività e laboratori artistici e artigianali. Alla Piletta si è in contatto con la terra e gli agricoltori. Si possono seguire le varie fasi di un processo di lavorazione produttivo ed economico fondamentale. Alla Piletta si coltivano con metodo biologico erbe che curano e risanano. Si offrono corsi per comprendere e conservare le piante e le loro proprietà, laboratori artistici e di fitoterapia. Ambiente naturale, arte e terapia, incontro con l'altro, attività agricole e fitoterapia sono chiavi per trovare un senso nel mondo e nella vita.